sotto la 4070 non è gaming RX 6900 XT praticamente tre anni dopo più o meno buon salve buon salve a tutti signori e bentornati qui su Rama95 Youtube l'unico canale tech dove c'è il latte nella tecnologia signori bentornati e buon salve a tutti buon salve con questa scheda in mano sono qui per decretarvi per portarvi un piccolo contenuto che spero sia interessante per voi dove tratteremo penso per l'ultima volta o per ora per l'ultima volta forse non lo so di questa praticamente scheda video prima top di gamma della scorsa generazione di AMD però ragazzi se volete a te con te altre schede video mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche fatemi capire insomma se vi garba se siete interessati a questi tipi di contenuti se volete altri contenuti su magari altre schede video qualcosina a mano potrebbe tornarmi in questo momento come potete vedere alle mie spalle non c'è la 3090 3090 perché la 3090 ora è lì sopra giusto per farvi un'idea e attualmente già da almeno un paio di video quindi almeno il video della 7000 SXT dovrebbe essere già uscito il video della 780M sono già stati editati in A1 quindi a regola dovrei avervi già anche lasciato nei commenti sotto video editati in A1 insomma come vi sembra insomma ditemi un vostro feedback sulla qualità dei video per vedere un po' le stesse cose poi vi ricordo ancora ragazzi ora questo video qui dovrebbe uscire praticamente a ridosso però sì uscirà a ridosso ma a ridosso della ramatona però comunque vi ricordo nel senso che il lunedì 22 maggio salvo stranezze ci sarà la ramatona sul canale Viola 96 ore ragazzi 96 ore tanta roba da fare tante cose divertenti da fare insieme quindi perché non passare qualche giorno di qualità insieme sul canale Viola a fare cose pindariche vi aspetto lì sopra prima di cominciare voglio comunque che andate sotto nei commenti e voglio che scriviate così perlomeno ho capito che siete arrivati a questo punto del video ovvero sotto la 4070 non è gaming perché appunto la considerazione a quanto pare potrebbe diventare questa nei prossimi mesi o barra settimane RX 6900 XT questa è la seconda versione che ho posseduto che ho ottenuto la prima versione era una Founders Edition presa al drop dal buon Saddi allora che fuganza no perché andava così no io avevo la mia 5700 XT non mi sono mai interessato a comprare una scheda video moderna di quelle più della serie 6000 però comunque al drop ci ho partecipato lo stesso visto comunque i prezzi contenuti che sono riuscito a prendere al drop ho detto vabbè se mi capita me la compro e poi mi vendo la 5700 XT così perlomeno faccio un upgrade con una poca spesa e alla fine comunque avevo l'interesse principale alla 6800 liscia o 6800 XT praticamente erano quelle su cui più realisticamente puntavo allora che succede questa particolarezza ovvero drop io non compro niente Saddi compro una 6900 XT finisce la live tutto il resto mi fa io ce ne ho già trovo io ce ne ho già una di 6900 XT la vuoi te? 1000 euro e che fai? te ne aprivi? va bene 1000 euro via settimana dopo mi scrive Saddi di nuovo mi fa guarda non posso andare live ci puoi andare te il live per il drop vado in live per il drop a posto di Saddi andavo a lavorare quindi esco alle 5 cerco di fare le corse per arrivare il prima possibile al drop arrivo a fare il drop e drop una 6800 liscia e così ed inizio la mia epopea inizio la mia epopea di mano più veloce del drop perché talmente per tipo 3 settimane di fila tipo avevo comprato 3 schede video che mi ricordo avevo comprato tipo 6800 6700 XT e 6800 XT così tutto tutto un dietro l'altro finché poi avevo entrato la coda quindi vabbè dico ok va bene fine la 6900 l'ho tenuta lo stesso come sapete è stata poi anche la scheda che ci ha accompagnato durante la prima ramatona delle 100 ore fatta nel vecchio ramastudio nel vecchio mucca studio originale mucca studio e quindi io porto dei bei ricordi di quella scheda è una scheda che effettivamente mi ha fatto divertire tanto mi ha trattato tanto e anche questa non è da meno quindi oggi parliamo con lei partiamo di lei e con lei vediamo effettivamente come in che situazioni ci troveremmo nel 2023 con ancora l'attesa dell'FSR 3.0 breve cronistoria come voi sapete in tanti la 6900 XT è praticamente nata per combattere la RTX 3090 non solo in prestazioni in raster ma anche sul prezzo perché alla fine il prezzo di lancio di questa scheda è lo stesso che poi è stato presentato di recente per la 7900 XTX ovvero 999 dollari questo è il segnale positivo diciamo così dell'hine up dei prezzi sulla 6700 da parte di AMD questa è la cosa più forte più positiva non aveva la stessa VRAM della 3090 perché appunto diciamo così la 3090 ne aveva 24 questa era la 16 quindi ovviamente non poteva vantare la stessa tecnologia né di tecnologia di memoria né la stessa quantità di VRAM però per quanto riguarda rasterizzazione effettivamente andava come una 3090 anche lei durante il periodo dello short diciamo che è stata un po' diciamo così cannibalizzata ma non così tanto come le sue sorelle minori infatti chi sa benissimo chi minava nel periodo nell'ultimo periodo mining sa che le 6000 erano un po' particolari ovvero che dalla 6800 in su minavano tutti uguali non cambiava niente 6800 6800 6800 6800 6900 6900 6900 consumavano cioè minavano gli stessi megash solo che il consumo aumentava quindi all'occhio dei miners questa era la 6900 più inefficiente per il mining perché appunto consumava e alla fine minavi quanto una 6800 che consumava molto meno quindi sì alla fine della fiera era quella un po' più lasciata libera e infatti la cosa che sia me che sa di Patrick Marco Verdoria in tanti abbiamo detto ragazzi è vero che il retracing tutto quel che vi pare invidia è meglio ma ha veramente senso spendere 1300 1400 1200 per una 3080 quando all'epoca la stessa cifra ci compravi questa ma la gente non ci ha mai ascoltato ovviamente ha comprato quello che più gli pareva ovviamente poi uno fa come gli pare noi però abbiamo consigliato dicendo ragazzi ma se ti spende 1300 euro piuttosto se proprio dovete compratevi questa addirittura c'era questa addirittura quindi una top custom 1300 euro come questa quando praticamente la founder si pagava tipo 1050 1070 quindi oh questa la paghi 1300 però è una top custom c'è un leggero sovrapprezzo magari non è una scheda che pagherei 1300 euro in condizioni normali però sicuramente se devo proprio spendere 1300 euro per una scheda video mi compro questa che è una top di gamma va come una 30-40 rasterizzazione e l'e-tracing magari andrò come una 30-80 30-70 però vado niente nessuno c'ha mai la toretta e quindi ciccia la gente ha fatto come gli è parso e poi oggi magari un po' si sente un pochino scammicchiato da una parte perché appunto poi come tutti sappiamo che è un allarme che fu già lanciato già a suo tempo che alcune schede video forse avevano poca VRAM per quello che serviva però però vabbè un piccolo assunto di specifiche tecniche di questa scheda e poi passiamo praticamente ai test allora questa scheda ovviamente già ve lo ho già detto per la struttura a TSMC a 7 nanometri tecnologia architettura RDNA2 con un core che arriva fino a 2365 MHz quindi un po' più alto rispetto a una versione diciamo così di base di Founders memoria a 2000 MHz 16 GB al secondo 5120 shading unit quindi core della scheda 80 RT core e poi la famosa Infinity Cache di 128 MB quindi insomma la rende effettivamente una scheda abbastanza prestante e performante come ho già detto le memorie sono 16 GB a tecnologia GTDR6 non X 256 bit di memory bus e un memory bandwidth di 512 GB al secondo allora a livello come vedete estetico è praticamente la rende attualmente la scheda più grossa che ho mai posseduto questa è proprio enorme e rispetto alla 3090 aspettate che ho qualche migliaio di euro sulle gambe praticamente cioè questa è la cioè letteralmente come potete vedere c'è una leggerissima differenza però come potete vedere è più grande la 6009 che della 3090 però a livello di dissipazione il corpo dissipante è molto più denso sulla 3090 però vi motivi di qua è un po' meno infatti è molto più leggera rispetto alla 3090 però come sono due veramente due big l'altra nota donente che effettivamente la rende un po' diciamo così poco compatibile con tanti sistemi è che qui come potete vedere ci vogliono tre connettori di alimentazione come la 3090 la differenza della 3090 è che chiede un 3-8 pin qui abbiamo un 2-8 pin più un 6 pin quindi diciamo che non è il massimo della vita ok si potrebbe storcere un po' in alto soprattutto in vista comunque di quello che abbiamo visto sulla 4070 che effettivamente a livello di efficienza è molto molto interessante su quello non possiamo dirlo costa troppo ancora si però effettivamente a livello di efficienza non si può dire niente un solo connettore 8 pin per rientrare in una scheda del genere effettivamente è interessante per il resto a livello di uscite praticamente abbiamo un classico display port e 3 display port e un HDMI 2.1 quindi su quello tutto abbastanza standard ma a questo punto non perderei più in ulteriori chiacchiere e andrei subito a vedere i benchmark i test effettuati sono tutti stati effettuati in full hd 2k e 4k in certi casi c'è anche le tracing in certi casi ho atteggiato anche le fsr quindi ci sarà un po' di pronuncio di tutto quindi ma tanto avete tutti i grafici poi avete sotto il link con tutti i dettagli nel particolare ovviamente ho abbinato la scheda alla test bench nuova 2.0 che è l'i5 13.4 su b660 con 16 gigabyte di ram tra i 1600 e le 16 quindi diciamo che si tratta di una test bench abbastanza comune ok troverà tanti riscontri tra tante persone diciamo così più mainstream non è un processore top di gamma roba del genere quindi qualcosa che è più facile trovare riscontro nel pubblico partiamo con il primo gioco Total War Troy quindi il classico titolone strategico dove sapete benissimo che si ok la grafica però qui è molto processore dipendente è anche un gioco fortemente ottimizzato Nvidia infatti come potete vedere diciamo che sia in full HD abbiamo un buon risultato 87 fps di media però effettivamente non brilla come magari altre schede perché a quanto pare qui diciamo che il driver manca un po' di supporto e si si fa sentire una una certa assenza poi poi molto probabilmente anche usa il fatto che magari il processore è stato anche un po' tirato da una scheda video del genere sicuramente anche lì non è che abbiamo dato una mano sicuramente in full HD ultra con una scheda video del genere con il 13400 non è che abbiamo fatto una grande combo ecco non è una combo che userei per giocare in full HD proviamoci chiaro questa scheda usarla in full HD diciamo che è uno spreco sia di energia sia di soldi però effettivamente è più che giocabile 1440p ultra lavoriamo sui 72 fps quindi anche qui è più che sufficientemente positivo come risultato diciamo che sicuramente c'è un po' più di equilibrio ma arrivando in 4k come sapete questi occhi diventano dei mattoni incredibili infatti siamo sui 47 fps quindi siamo un po' lontani dei 60 probabilmente dovremmo scendere non solo di dettaglio grafico non solo di filtro ma anche un po' di dettaglio grafico se vogliamo vedere i 60 anche se come sapete gli strategici a 30 frame si giocano tranquillamente anche perché non sono titoli frenetici non sono titoli grafica o hanno bisogno di fluidità alla fine sono molto schematici soprattutto i total war sono anche ibridi perché sono a tempo reale in campo di battaglia e a turni diciamo così nella parte di mappa generale quindi anche lì appunto il framerate è molto relativo su come deve girare su un titolo del genere il titolo del momento il titolo che tutti hanno diciamo così criticato per la sua poca attimizzazione il fatto che è un mangiavi ram il fatto che distrugge le schede video il fatto che ha relegato la 3070 al full hd chi più ne ha più ne metta ovvero The Last of Us parte 1 allora full hd ultra possiamo dire che va bene full hd ultra 124 fps direi che va benissimo non c'è niente da lamentarsi ok effettivamente qui la scheda riesce a lavorare bene non attacca troppo il processore benché sia un gioco molto cpu dipendente però comunque il processore è tenuto bene botta e quindi si è creato comunque un giusto equilibrio la scheda tira bene il gioco tira bene il processore il processore segue abbastanza tranquillamente la situazione e ovviamente sicuramente la tanta viram a disposizione aiuta nella digestione del gioco più che gestione di gestione in 1440p oltre anche qui stiamo tranquillamente sopra i 100 fps quindi anche qui va benissimo nel senso ecco è una combo realistica un 13400 con una 6900 XT per in 1440p direi che va benissimo poi ricordatevi che in 1440p c'è il famoso trucco delle 6000 perlomeno poi dovrebbe essere anche delle 7000 ovvero che RDNA in 1440p ha questo boost che va di più rispetto alle controparti di NVIDIA poi in 4K le memorie GDDR6 invece prendono sopravvento perché hanno appunto ne hanno di più rispetto alle memorie GDDR6 e si creano inversione però in 1440p direi che è proprio il terreno fertile per queste schede perlomeno GDDR6 architettura RDNA 2 sono nel loro terreno perfetto in 4K ultra direi che non mi potrei lamentare 57 fps di media vuol dire che letteralmente basta iniziare a limare qualche dettaglio o abilitare l'FSR se uno volesse appunto passare su questo frangente quindi attivare l'FSR in modella qualità animale giusto togliere quelle 2-3 cosettine tramite FSR e sicuramente andresti a aiutare la scheda per raggiungere il 60fps che è un titolo del genere il 60fps direi che è più che giocabile anche perché comunque diciamo che come range ottimale siamo sui 30-60 poi il perfetto sarebbe del 60-120 però l'ottimale 30-60 direi che è più che giocabile se una persona sa cosa sa divertirsi in primis Shadow of the Tomb Raider qui entra in gioco anche il retracing allora piccola parola il retracing preparatevi che difficilmente lo vedrete sopra il 60 quando si tratta di retracing serio quando si tratta di retracing invece quello un po' più soft quello che è un retracing quasi blando non me ne accorgerete cioè è praticamente quel famoso retracing che attivare o non attivarlo non vi cambia nulla quindi anche lì sarà lo vedete andata sopra il 60 ma si tratta di retracing appunto molto blando allora full hd ultra ragazzi 204 fps che ve lo so dico cioè è inutile siamo penso arrivati anche a c più limited perché praticamente penso che il processore sia stato trascinato dalla scheda quasi che cascava cioè non dico che era come trascinare un peso ma insomma praticamente infatti il 1440 più ultra facciamo 190 perché appunto questa poca differenza perché praticamente il processore penso che sia arrivato sia scoppiato in quel fronte lì però diciamo che sia in full hd ultra che il 1440 più ultra sono delle idee di tutta di più che di dosi dal momento che in un caso mio realistico faccio 190 fps mi capo i frame a 144 che è il refresh rate del mio monitor e praticamente 50 fps me li recupero tranquillamente 46 scusate fps me li recupero tranquillamente quindi risparmio in consumi risparmio in calore eccetera 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 quindi direi che va benissimo 4k ultra anche qui va bene siamo tutti su un 4k rasterizzato 87 fps direi che c'è poco da dire va benissimo e c'è da alzare le mani attivando il retracing il 1440 più ultra anche qui direi che va bene siamo sugli 80 fps 4k ultra con il retracing 44.9 qui diciamo che deve venirci un po' incontro un po' più di un semplice immatura di filtri sicuramente se andiamo a togliere qualche filtro un po' di limare un pochino di di texture qualcosa del genere magari si riesce a portarla a casa in qualche maniera però se parliamo effettivamente poi di range di ottimale di giocavità questo è un single player 30-60 direi che va benissimo su quel fronte lì però magari appunto uno vuole provare a puntare 60 dovrebbe fare un po' di rinunce e di dettaglio grafico comunque chiamare in causa un eventuale XESS perché è l'unico disponibile non c'è l'FSR in questo caso su questo titolo ma ci vuole l'XESS Forza Horizon 5 bene questo è il titolo di macchine uno dei più giocati penso su PC e su console perlomeno Xbox perché è un'esclusiva Xbox e appunto parlando del fatto che questo è un gioco pensato per Xbox One non Series ma Xbox One lo rende un titolo abbastanza digeribile e nonostante la presenza del retracing che qui è un retracing abbastanza blando nonostante appunto sia attivo fisso perché appunto come sapete qui il preset ve lo attiva automaticamente in un momento che avete una scheda che supporta il retracing questo è una cosa che appunto ve lo continuo a dire perché può essere un campanile allarme per chi magari ha una scheda non particolarmente potente ma supporta retracing quindi ocio però in questo caso con una scheda del genere cioè i grafici parlo da soli full HD estremo retracing elevato 140 fps in 1440p ne facciamo 134 e in 4k 108 cioè non c'è vedete poco da dire il gioco è molto più che fluido non mi sento neanche da dire levate retracing con una scheda di video del genere con una combo del genere perché tanto nel senso si levate retracing magari guardate tante fps però alla fine nel senso avete il gioco a piena potenza pieno dettaglio grafico pieno tutto e ve la giocate tranquillamente appunto qui grazie al fatto che è un gioco pensato per architetture più vecchie e meno potenti della test quindi si qui è veramente un ottimo risultato altro titolo nuovo Dead Island 2 qui il gioco non ha retracing come già sapete però strano vero ma è discretamente ottimizzato bene quindi diciamo che si riesce a gestire tranquillamente con qualsiasi hardware e infatti qui ragazzi full hd ultra facciamo 217 fps che direi che sono leggermente too much però vabbè che vogliamo tanto più frame ma abbiamo meglio 2k ultra ne facciamo 138 che è più o meno anche lì siamo sui livelli della 3090 forse leggermente no sono quasi al pari perché effettivamente il processore 13k è di più del 134 la 3090 magari qui va leggermente sotto rispetto alla serie 9 xt perché siamo 1440p però alla fine comunque si equivalgono e va bene così cioè nel senso non c'è problema quindi anche qui 138 fps ragazzi ci siamo alla metà no perché comunque il gioco è più che fluido e un 4k ultra 80 fps 79,7 direi che anche qui c'è poco da lamentarci quindi anche qui diciamo che la scheda va benissimo e si parla di tutto tutto questo è tutto full raster ragazzi tutto full rasterizzazione niente di lss niente fsr tutta potenza nuda e cruda della scheda cyberpunk 2077 il titolo che praticamente cioè se non gioca cyberpunk se la scheda non gira bene su cyberpunk non gira bene su un'altra parte questa è la convinzione degli ultimi anni allora per quanto riguarda il full hd ultra siamo tranquillamente sopra i 100 fps ne facciamo 135 cioè ragazzi che vogliamo fa che vogliamo fa siamo cioè siamo più che giocabilmente giocabile abbiamo fatto un giro di parole strano però si va benissimo 1440p ultra va bene 107 fps è in linea con quello che doveva che faceva in origine e continua a fare oggi quindi per quanto riguarda la rasterizzazione in full hd 1440p la scheda va benissimo si comporta una favola per quanto riguarda il 4k rasterizzato ultra scritturiamo un pochino 51 fps però magari lì te la limmi un pochino te la giochi in una certa maniera riesci poi a portare a casa un risultato dignitoso parlando invece di retracing e fsr allora per quanto riguarda il retracing rasterizzato beh diciamo che non va non va bene ok in 1440p ultra core tracing a medio ragazzi 40 fps di media beh non è proprio la cosa cioè non è grave perché comunque un titolo che tra 30 e 60 sei in un famoso range di ottimale di di giocabilità però sicuramente sei cioè rispetto ai risultati che facevi prima sei molto sotto sei molto meno hai perso 70 fps circa attivando solo retracing quindi insomma un po' fa storcere il naso in 4k ultra retracing medio beh qui è disastroso insomma 18 fps ragazzi ecco qui sei completamente ingiocabile ecco 4k rasterizzato con il tracing a medio no diciamo che questa scheda non non ce la fa attivando l'fsr invece riusciamo a guadagnare un pochino in fsr qualità quindi quello che praticamente smussa di meno quello che dovrebbe limare di meno e effettivamente in 1440p retracing medio ultra con retracing in con l'fsr in qualità riusciamo a raggiungere i 59,4 fps quindi anche lì cioè letteralmente togliamo gli anti-liasing leviamo giusto un'ombrettina ecco fatto che hai toccato i tuoi 60 di media e torni nel range di giocabilità piena in 4k ultra retressing medio fsr qualità diciamo che si è già più giocabile ovvero 46 fps di media quindi si siamo tornati nel range di giocabilità ottimale quindi anche lì si torna a godercela ecco come situazione secondo me la quadra perfetta sarebbe i 1440p ultra retressing medio con l'fsr in qualità magari appunto con l'avvento dell'fsr 3.0 questa cosa potrebbe anche migliorare potrebbe magari appunto venire incontro ancora di più ai giocatori e migliorare la situazione visto che comunque si tratta di una tecnologia open source è vero che sarà una cosa che se viene di mettiamo caso dove succede che l'fsr 3.0 batte il dls 3.0 importa poco o nulla di chi sia la parte in cui vai a giocare perché tanto è open source quindi se c'è una 4070 guadagni anche te dall'fsr 3.2 perché attivi quello e non attivi dell'fsr 3 o comunque se hai una 3090 6900 xt anche te lo attivi perché tanto non ti frega niente perché tanto è open source e ce l'hai quindi alla fine come aiuterebbe md aiuterebbe tutte le altre case visto che appunto l'open source è aperto a tutti passando al gioco competitivo warzone 2.0 allora il gioco è un po' un ternaloso vede bene che warzone non brilla per ottimizzazione non è sicuramente competitivo per eccellenza però è un titolo molto giocato ultimamente bene qui diciamo che il processore è stato messo forse alle strette dalla scheda video perché come potete vedere è quasi tutto uniforme siamo in full hd competitivo 128 fps 1440p competitivo ne facciamo quasi altrettanti 127 e in 4k competitivo ne facciamo 121 a mio avviso nel full hd nel 1440p al processore ho chiesto forse un po' too much e effettivamente ha limitato un po' l'intera esperienza di gioco magari appunto se avessimo a disposizione un processore un po' più spinto come magari il mio 13000 SK o un 139 o un 7800X 3D che sicuramente a livello di tutto il full hd si fanno diciamo dando una mano non indifferente per quanto riguarda il gaming dove appunto il processore viene più caricato magari avrei aiutato la gestione dei frame rate avrei magari ottenuto dei risultati più consoni per una scheda del genere perché appunto ci si aspetta in un competitivo magari non dico di fare 300fps come come media ma magari appunto un 160 170 in questo caso purtroppo è stato fatto uno sbilanciamento a sfavore del processore però è anche questa anche questa comunque diciamo così è scienza possiamo dire testare una scheda del genere con un processore del genere e poi vedere effettivamente se è fattibile realistico oppure magari sarebbe da votare altro ultimo titolo ragazzi a plug tale requiem anche questo come sapete è un bel mattoggino e anche qui c'è il retracing per quanto riguarda la rasterizzazione in full hd e 1440p siamo ok perché comunque full hd 82 fps 1440p 69 non sono risultati wow però siamo più che nel siamo più che giocabili ecco diciamo così è più che giocabile il titolo quindi va bene andando sul 4k rasterizzato purtroppo inciampa e tocchiamo i 40 di media e retracing disastro perché in 1440p ultra core tracing scivoliamo sui 33 mentre invece in 4k è un po' come cyberpunk scivoliamo sui 18 quindi il retracing non è il suo campo nemmeno qui ma non è il campo a nessuna delle 6000 cioè sì ok il retracing quello blando te lo tengo ma se mi stai chiedendo retracing e rasterizzato non è possibile cioè avere retracing e la risoluzione rasterizzata è una commissione impossibile ma lo è impossibile anche per tante schede anche oggi cioè oggi se per dimora 40-70 ti hai e io gli chiedo di andare su cyberpunk in 1440p ultra core tracing attivo a medio anche lei non è che brilla tanto l'unica maniera che ha per poter aggiungere dei risultati migliori è attivare DLSS un po' come qui è di attivare l'FSR per avere dei risultati buoni con il retracing abilitato let's go 35 minuti di registrazione sarà divertente per il mio medio del futuro di editare questo video la scheda va bene ancora oggi si presenta si dimostra essere una scheda che si difende bene mostra i muscoli quando dimostra i muscoli e per chi vuole volesse utilizzarla per anche la parte professionale perché comunque questa è una scheda che sia per streamare per editare video va bene ci le ho editati io i video con questa scheda e ho fatto una maratona da 100 ore e se qualcuno mi chiedesse dei driver beh raga i driver vanno bene io a livello di driver per quanto riguarda AMD io vi ho io vi capisco vi ho nel cuore ma non ho mai avuto un problema di quelli che voi mi descrivete ma non voglio essere perché fanboy è meglio ma io non sono fanboy e lo sapete benissimo ma è proprio il fatto che non li ho mai avuti e non ho mai capito perché cioè mi piacerebbe provarli anche a me questi problemi qui per capire il problema magari trovare anche la media di solito non mi sono mai presentati ho fatto una live sul canale di Ola di 100 ore e non è mai crashata è crashata la live due o tre volte solamente perché stavo provando a giocare a New World e avevo il problema dei transienti perché all'epoca avevo il Seasonic 550 Watt col 500X e la 6009 e diciamo che già il allenatore era limitato poi più il fatto che il Seasonic a 551 Watt si spenge diciamo che non mi ha sicuramente aiutato nella gestione della live però per quanto riguarda la live normale non è mai crashata io questa cosa qui non l'ho mai capita cioè non capisco i problemi che la community si lamenta perché cioè io di schede non ho avuto di schede VNMD ma non ho mai trovato un problema del genere mai trovato vabbè e niente quindi ancora oggi è una scheda che va forte la comprerei oggi magari sì e no ovvero dovete trovare la giusta offerta e il giusto ovviamente prezzo per una scheda del genere oggi comunque il prezzo dovete darlo voi tenendo conto che questa è una scheda che tende ad essere leggermente superiore a rasterizzazione rispetto a una 40-70 perché comunque si parla di una scheda che questa più o meno dovrebbe andare all'incirca un 10% in più rispetto a una 40-70 e appunto un 10% in meno rispetto a una 6950 XT quindi è una via di mezzo quindi più o meno fate un conto vostro valutate quanto vorreste pagare una scheda del genere oggi tenendo conto che questa si tratta di una top custom poi normale potete comprare anche magari una founders o delle custom un po' più contenute magari più economiche che sicuramente rendono il prezzo ancora più accessibile poi sapete bene che esiste anche il mall power tool quindi tutti quei tweak dove è possibile spremere ancora più la scheda magari dare un distacco prestazionale in più alle altre schede magari aggiungendo performance sicuramente anche superiori rispetto al normale rispetto all'auto di box però ovviamente quella è una procedura che va fatta solo se la sentite di fare determinate procedure anche perché comunque insomma diciamo che smanettare in questi ettaggi non dico che è una cosa facile ma non è per tutti signori ora sotto nei commenti voglio sentirvi dire 6950 XT is alive perché comunque 6950 XT è viva quindi voglio sotto nei commenti 6950 XT è viva quindi prima avevo chiesto un altro commento e sotto voglio un altro commento così per capire che se andate alla fine di questo video avete apprezzato tutta la tutto il lavoro fatto praticamente questo è un video che è di totalmente un film qua 38 minuti oddio devo tagliare devo tagliare ragazzuoli commentate condividete e noi ci vediamo al prossimo video ciao